Eccoci, ciao a tutti, bentornati, siete di nuovo qui all'ascolto del mio canale podcast che adesso in realtà diventa un video podcast perché abbiamo deciso di fare anche delle registrazioni video quindi ci troverete su tutte le piattaforme di podcasting e anche su youtube. Ho deciso di riprendere questa attività in quanto c'è uno nuovo progetto, a settembre del 2023 è nato un progetto quasi dal niente, diciamo dal garage di casa mia e il progetto sta diventando sempre più grosso, sempre più bello, sta prendendo forma ed è arrivato anche il motivo e il momento, scusate, di diffondere un pochino a tutti questo messaggio. Il progetto si chiama From Zero to Tree e si tratta di preparare, di allenare queste dieci persone che non hanno mai fatto triathlon, prepararle per sei mesi e andare a fare una gara, un evento. Nello specifico parliamo di un evento di Xterra, quindi di un triathlon con la mountain bike, in questo caso su distanza sprint. L'evento è a Malta il 5 di aprile 2024. Gli allenamenti sono già iniziati da un paio di mesi e nel prossimo episodio troverete una serie di interviste che ho fatto alle ragazze e ai ragazzi che sono stati selezionati e che vi racconteranno insomma questi primi due mesi, com'è stata, com'è non è stata, com'è la vivono. L'idea è di diffondere questo messaggio che il triathlon ma soprattutto lo sport e il movimento è assolutamente per tutti. Se guidati nel giusto modo, se diciamo indirizzati da professionisti può assolutamente migliorare la qualità della vita di tutte le persone. Io ho sempre sostenuto che la mia professione probabilmente nei prossimi anni arriverà a diventare anche sanitaria proprio per il fatto che l'attività fisica e l'attività sportiva migliora tantissimo la salute delle persone e soprattutto abbatte completamente, cioè non completamente ma abbatte tantissimo i costi anche per la sanità pubblica, senza considerare il fatto che a livello personale delle persone che praticano e anche insomma le persone conviventi la qualità della vita migliora tantissimo. Allora questo progetto è nato da un'idea mia e di mia sorella, appunto è stata coinvolgente a 360 gradi al punto che abbiamo deciso di creare, di costituire una SD, una SD che non ha lo scopo di sostenere diciamo così aiutare solo queste dieci persone che sono state selezionate ma anche appunto ha l'obiettivo di preparare dei progetti anche nei prossimi anni ma nei prossimi mesi che siano un po' sulla falsa riga di questo. Non necessariamente siamo orientati al triatron ma potrebbe essere anche la mountain bike, la corsa, nessuno vieta di pensare all'orienteering o insomma tantissime altre attività. L'idea è proprio quella di creare una SD che sia multidisciplinare e che proponga progetti a persone anche di diverso livello. Per selezionare queste dieci persone abbiamo deciso di farle scrivere una lettera a mano. Chi mi conosce sa che ormai questo diciamo che è il metodo che preferisco per essere contattato anche se ovviamente non disdegno le mail o il telefono per carità però diciamo che con una lettera motivazionale scritta a mano ho la sensazione di capire subito quale è la motivazione profonda che spinge una persona a contattarmi. Prendersi del tempo, prendere un foglio, comprare il francobollo e scrivere una lettera a mano è un gesto che di per sé necessita di una motivazione abbastanza importante. Se una persona infatti è motivata a metà tipicamente si ferma proprio ancora al primo step e quindi va bene così perché la motivazione può essere di due modi, di due tipi, estrinseca o intrinseca. La motivazione che viene da fuori di noi quindi estrinseca è la motivazione che può dare un coach, può dare un trainer, può dare un compagno di allenamento mentre la motivazione intrinseca è quella forza interna che ci spinge proprio a internamente a lavorare, a camminare verso i nostri obiettivi, verso i nostri sogni. Ovviamente i due tipi di motivazione vanno sommati o comunque possono essere utili e aiutare entrambe ma tutto deve essere chiaramente poi condito anche da una profonda disciplina che è quella caratteristica che ci consente di continuare perseverare anche nei momenti dove la motivazione diciamo è sotto i piedi. Quindi hanno iniziato scrivendo questa lettera a mano, sono arrivate, abbiamo selezionato queste persone, abbiamo cominciato ad allenarle. I requisiti erano di poter fare tre allenamenti alla settimana divisi per le tre discipline quindi uno di nuoto, uno di bici e uno di corsa della durata di circa un'ora per ogni allenamento quindi si tratta di prendere tre ore alla settimana e investirle per questo progetto. La cosa interessante è che le persone selezionate sono tutti genitori quindi non sono non parliamo di atleti o di persone giovani, libere per la quale sarebbe stato anche più facile, più semplice da un certo punto di vista poter gestire il proprio tempo. Ma parliamo di persone che hanno una famiglia, impegni, lavoro eccetera. Quindi c'è anche questo aspetto, questo messaggio diciamo che può passare anche alle altre persone. Niente, vi chiedo se volete ascoltare queste storie, queste interviste molto diverse tra loro. Ogni persona infatti ha una, possiede una caratteristica diversa, una storia diversa ma che sono accomunate semplicemente da questo progetto. È molto interessante secondo me sentire le loro testimonianze perché magari può servire d'aiuto anche a te, chi lo sa, perché questo progetto verrà poi riproposto. Ci sarà una versione estiva nel 2024 e vediamo, vediamo cos'altro, cos'altro può nascere. Per adesso staranno andando molto bene le cose. Queste puntate verranno pubblicate il lunedì e il giovedì di ogni settimana, quindi ci saranno dieci interviste, quattro ho già iniziato a fare ma volevo fare prima questo video podcast introduttivo per spiegarti un po' cosa andrei a sentire. Bene, sicuramente mi sono dimenticato qualcosa, non è un problema, vediamo di prendere sempre più confidenza con questi video podcast che mi incuriosiscono parecchio. ne seguo qualcuno diciamo da qualche tempo e penso che possa essere un ottimo mezzo di comunicazione e di compagnia e anche insomma di formazione, sia perché ascolta che per me che li faccio. Buon ascolto, lasciatemi un feedback, mi interessa molto sapere come la vedete e buona giornata. Ciao!